Buongiorno, buon giovedì 16 novembre, si apre l'edicola di 8 channel, andiamo subito a guardare insieme i quotidiani per scoprire le principali notizie del giorno. Partiamo ovviamente dallo storico quotidiano in Roma con la doppia apertura, trasporto e politica, da un lato De Luca Meloni, scintille sul sud, il governatore dice il meridione calpestato, la Premier 1,8 miliardi per investire e poi lo sport con il doppio modulo per il Napoli, Mazzarri pronto per il 433 e il 3421 per accontentare Aurelio De Laurentiis. Intanto Unicredit, main sponsor del San Carlo, la partnership, l'impegno dei privati, vedete, indirizzato ai progetti sui giovani, una borsa di studio anche nel nome di Giovanna Battista Cutolo. Sette strumenti per sette musicisti, ieri nel foyer del San Carlo c'erano sette violoncelli ad accompagnare il talento degli artisti delle officine San Carlo. Sette concertisti del teatro più antico d'Europa hanno suonato per dimostrare che i talenti nascono anche dal basso, quindi anche un'operazione socioculturale, quella che rende il San Carlo sempre più cuore palpitante della Napoli che guarda al futuro. Lisner, lasciamo fuori la politica, Manfredi frenano i garanti della qualità artistica. Ancora, scontro dei Luca Meloni, il governatore, il sud è calpestato dai tagli, ma la Premier dice che la ZES è una grande opportunità, dobbiamo riuscire a far crescere il meridione, è un volano per l'Italia, combatteremo per evitare che i ragazzi siano costretti ad emigrare per vivere. Lo sciopero, la resa di Cigelle e Will, solo 4 ore, Landini, domani i trasporti fermi dalle 9 alle 13 e il governo vince il braccio di ferro. Mediazione tra i tuoi diritti, l'astenzione dei medici si farà in tre giorni, l'esecutivo ascolti le nostre ragioni, c'è un malessere diffuso. Ovvero le luci sono puntate dai sindacati su quella che è la manovra, si tenta di capire quali saranno anche i riflessi sul sistema pensionistico pubblico. Sequestrate due ville a Setola, subito sulla campagna andiamo a Casal di Principe, in uno dei lussuosi mobili vivono i familiari del capo dell'ala stragista dei casalesi. Vasche idromassaggio, mobili di pregio per 450 mila euro. Un po' di curiosità, l'arredamento dei boss nella villa di 400 metri quadrati, trovano posto anche vasche idromassaggio, camini, spazi marmo, mobili di pregio, arredamento tipico dei boss. Per ora moglie, figli e suoceri di Setola vivranno nell'immobile, ma se dovesse arrivare la confisca definitiva verranno mandati via la villa su due livelli, abitata dai familiari, non è considerata ai livelli di schiavone, che si era ispirato a Scarface. Continuiamo ad andare avanti. In stallo l'intesa sugli ostacoli, si è al rilascio dei 50 israeliani per tre giorni di tregua, poi Hamas alza la posta di Israele, dice no. Andiamo subito a vedere all'interno, distrutto il Parlamento di Gaza, disgelo tra Biden e il numero uno del governo cinese. Gli italo-israeliani uccisi la procura intanto indaga. Qui vediamo anche il barbiere di 87 anni nel Borgo Fantasma, una rapida incursione in quella che è la storia di Apice, ma andiamo subito su Napoli, andremo dopo anche sulle aree interne. Striscione sulle mura di Piazza Bellini, che vergogna la provocazione di lega ambiente per segnalare lo stato di abbandono e di degrado del sito storico. Non è un bel biglietto da visita, dicono. E poi ancora per l'arco di Portalba c'è l'impegno di comune e amministrazione per intervenire con urdenza e domani c'è la notte bianca per i librai. Ricorderete appunto che Portalba è la storica porta di Napoli, con Porta Marina, Porta Capuana, le altre porte della città, Porta San Gennaro, ma quella era proprio la porta lungo cui hanno vissuto lunghi anni di storia libraria del capoluogo partenopeo. Intanto la mala Napoli, droga e pistola, preso Prudere Junior, blizzi in via Concordia, arrestato il figlio di Lelluccio e Mimì, ex-ras teste matte. Il 29enne aveva in casa un'arma e anche quasi un chilo d'erba. È il nipote del leader delle mamme Coraggio. Rettata in via Milano, azzerato un droga market, poi ancora maxicarico di droga intercettato a Secondigliano, clan nel mirino degli investigatori, scovati, pensate, 11 chili di hashish, 8 panetti di coca. In manette finisce Salvatore Turo. E adesso un altro racconto che arriva dall'istituto minorile di detenzione, quello di Nisida, dove c'è stata una vera e propria notte d'inferno, quella tra martedì e mercoledì. Sono stati massacrati due poliziotti detenuti a danno fuoco ad una cella e poi hanno fatto saltare addirittura un dente ad un agente. Quattro feriti, due in maniera più grave. Racket al gioielliere, salvo il ras dei moccia, assolto Giovanni Forte e accusato di essersi appropriato di una collana del valore di 7 mila euro. Spaccio di hashish al vasto, una pattuglia picchiata dal pusher. Quindi ancora storie di violenza che arrivano dalla malavita. Confindustria lascia il Made in Caivano, i cavalieri del lavoro Costanza Iannotti-Pecci e Armando De Nigris. Pensiamo al work delivery nel Parco Verde. Prima riunione zonale degli industriali di Napoli tenuta presso l'acetificio Marcello De Nigris. C'è l'ipotesi di un binario ferroviario per la spedizione delle merci direttamente nella zona Asi. Lascia la cella uno dei tre aguzzini, andiamo a Sant'Antimo, una storia di violenza. Vai domiciliari, è uno dei maggiorenni che insieme ad un minore è accusato di aver massacrato un compagno disabile. E poi ancora, entro fine anno, previste 16 assunzioni, la Tide Farma inaugura la nuova sede nel comune. E ancora Napoli. Bradisismo, il sole sta scendendo, la gente del posto, facciamo gli scongiuri, ma ultimamente, fortunatamente, non stiamo ballando e anche le scosse telluriche segnalano una pausa da circa sette giorni. Musumeci torna a parlare e dice non creare allarmismo sul bradisismo è la scelta giusta. Queste le notizie da Roma, torniamo sulla schermata, guardiamo insieme anche le prime pagine in carrellata della giornata di oggi e andiamo subito a vedere quella che è l'apertura di Repubblica Napoli con l'attacco alla democrazia. Intervista a Landini, il ministro e il garante hanno calpestato la Costituzione, ora la Premier ritiri la precettazione. Salvini intanto provoca sto lavorando sul diritto di sciopero, ma Palazzo Chigi lo smentisce, lo stop dei trasporti ridotto a quattro ore. La mano tesa di Biden, il mondo, è grande per entrambi, il vertice a San Francisco. Quindi segnali incoraggianti. Intanto Meloni frena Salvini, i sindacati impugnano lo stop, il ministro sto lavorando alla normativa, la Premier non vogliamo cambiare la legge, il PD fa il guappo, la CGL e la Will riducono di quattro ore la protesta nei trasporti, ma preparano il ricorso contro la decisione del governo. Guardiamo un po' qualche particolare per la protesta di domani. Trasporto locale, lo stop dei mezzi pubblici sarà solo di quattro ore, dai bus alle metro, dalle navi ai traghetti, saranno garantite tutte le linee al di fuori dello slot 913. In Piemonte e Lombardia, aderirà lo stop però anche a TM a Milano, stessa cosa anche a Bologna e Napoli. I treni, Trenord parte, tutte le linee ferroviarie si fermano con le stesse modalità e orari del trasporto pubblico locale. Trenitalia scrive sul suo sito che lo so però può comportare modifiche del servizio. Ancora, aerei e taxi, restano operativi voli in tutto il territorio nazionale, infatti i sindacati hanno deciso di entrare dal blocco. Pubblico impiego, incroceranno le braccia per otto ore i dipendenti pubblici della sanità, dell'istruzione, dei servizi postali e dell'igiene ambientale. Settore privato, rinunciamo all'intera giornata di lavoro. Quindi queste sono un po' le regole che saranno osservate. Landini, un attacco alla democrazia. Adesso la Premier ritiri la precettazione. L'Unione Europea intanto taglia la crescita dell'Italia. Le stime legate al destino del PNRR rallenta l'economia in tutta l'Eurozona. Il PIL di Roma, vedete, rivisto allo 0,7, anziché allo 0,8 nel 2023. Nel 2024 sarà allo 0,9. Manovra, regole di ferro, solo modifiche a costo zero, due nuove sanatorie fiscali. Stop del tesoro, gli emendamenti, dietro fronte di Forza Italia e spunta una risoluzione. Il fronte dei porti, il patto con l'Albania, valido solo sui soccorsi in acque extra Unione Europea, Bruxelles, Beffa, Roma. La commissaria europea, Janssen, parla di accordo fuori dal diritto comunitario. Le navi italiane non sconfinano in zona libica dai tempi di Mare Nostrum. Ai migranti salvati vicino alle coste siciliane e maltesi si applicano i diritti dell'Unione Europea. Riunione ieri intanto a Palazzo Chigi, ma serve una soluzione che riesca a non affaticare troppo le coste italiane dagli arrivi dei migranti. Non risarciamo le vittime di Cutro. Buongiorno, fa l'avvocato del governo. Consap deposita intanto al processo una memoria firmata dalla senatrice. PD dice atto cinico, inopportuna la leghista rivesta tanti ruoli. Parliamo di Giulia. Buongiorno, la senatrice della Lega è anche legale di Consap. Un'altra pagina di Repubblica Insieme. L'attesa dei migranti nel girone di Tunisi. Sono tornati i passuer, fateci andare in Italia, nel Rudered sulla laguna. Ammassati circa 1.200. Abbiamo già tentato la traversata, ma siamo stati fermati. Ora i controlli a terra e in mare si sono allentati. 1.000 arrivi al giorno a Lampedusa. L'emergenza sbarchi, travolge Lampedusa. Più di 1.700 persone, guardiamo i numeri, in poco più di 30 ore, quasi 1.000, solo nella giornata di ieri. Dopo un mese di sbarchi a Singhozzo, l'orizzonte a largo di Lampedusa torna ad affollarsi, a riempirsi di barchini. Ma gonfiare gli arrivi non è solo la finestra del pertempo, che come sempre accompagna l'aumento delle traversate. Mentre non si arresta il flusso dalla Libia, la rotta dalla Tunisia si è riaperta. L'esodo dei subsariani è ricominciato e sul Mediterraneo sono tornati a farsi vedere le bare galleggianti, gusci di latta diventati cifra distintiva delle traversate dei subsariani in fuga da Helmhara e Mahdia. Quindi questi sono un po' i racconti che arrivano dalle coste. Le notizie nazionali, avremo il nostro approfondimento campano, partiamo da Repubblica Napoli, l'apertura con il centro storico unesco invaso letteralmente dai BNB, qui non si trova più casa. Lo sfogo in rete di giovani coppie in vista anche del forum internazionale dal 26 al 29 novembre. In un palazzo, in via Tribunale, 18 appartamenti su 20 sono BNB. Intanto guardiamo anche Mazzarri, primo giorno della nuova vita, qui è sempre tutto bellissimo. E poi l'Isner a San Giuliano, la politica entra troppo nella cultura, il sovrintendente reintegrato, rilanciamo il teatro con la qualità. Manfredi, noi garanti dell'autonomia, partnership con Unit Credit. Il palazzo dei turisti, 18 appartamenti su 20 sono BNB, la città non è più nostra, perfino i residenti non trovano case da affittare, ma la bolla dei BNB è in espansione. In sei mesi a San Lorenzo sono aumentati, pensate solo a San Lorenzo del 21%. E intanto il business del mercato immobiliare, pensate un monolocale di 11 metri quadri, costa 50 mila euro, 5 mila a metro quadro come a via Petrarca. Quindi davvero i decumani sono la nuova frontiera delle abitazioni di lusso. Area Unesco invasa dai BNB e protesta, tagliati fuori dall'acquisto di una casa, lo sfogo delle giovani coppie che vogliono vivere e restare nelle zone dove sono cresciuti. E Palazzo Fuga, che diventerà il centro della creatività, ospiterà le attività di supporto al cinema. Dopo la concessione di locali per la produzione del film di Sorrentino, il Comune ha in programma altre attività. Locorato lo metteremo a frutto le enormi potenzialità del settore audiovisivo, perché ovviamente è la riflessione condivisa a livello mondiale che è la città di Napoli al di là di Palazzo Fuga. È ormai un set a cielo aperto. L'Isner a San Giuliano, la politica entra un po' troppo nella cultura, stoccata dal sovrintendente del San Carlo al Ministro, dopo la estromissione dall'incarico, poi ribaltata dai giudici. La replica di Manfredi, ritengo che l'autonomia del teatro sia stata salvaguardata. E poi le luci di Natale, affidamento diretto alle ditte e più lotti, corsa contro in tempo per allestire le luci a Napoli, intanto a Chiaia resta al buio per un nuovo guasto alla luce elettrica. Quindi aspettando le nuove luci di Natale, Chiaia resta al buio. Zoprofilattico, archiviazione per tutti, ma la Corte dei Conti indaga ancora, si chiude l'inchiesta, penale, ma resta aperto il filone della magistratura contabile sull'uso disinvolto della carta di credito aziendale del direttore Limone e sui compensi ai dirigenti, fino a 16 mila euro al mese. Ancora? Mazzarri subito in campo, ma non trovo Simen, Garzia saluta, mi dispiace, centro sportivo blindato e per pochi tifosi nel primo giorno, ma qui è tutto bello, il nigeriano ha la febbre, oggi intanto primo test contro la Juve Stabia. Ancora Napoli, le cronache di Napoli, guardiamo l'apertura che è quella dedicata al carcere di Nisi, da una notte di violenza, quattro agenti feriti, all'uno salta il dente, il capitano dei vigili contrasta i reati dei ragazzi, quando interveniamo ai tardi, serve formazione, minorenni fuori controllo nel penitenziario, picchiati quattro agenti, la mamma di Giorgio e Don Merola, in strada va anche peggio. Meccanico accoltellato, nella sua officina, l'artigiano colpito due volte alle spalle in via Gianturco, ai quartieri spagnoli, quattro fendenti contro un quarantenne. Babbo Natale, Stellantis snobba da due mesi la richiesta degli operai, Pomigliano, nessuna risposta alla lettera e c'è davvero tanta, tanta preoccupazione. Amministrazione sciolta per Camorra, colto il ricorso a Castellammare di Stabia dell'ex sindaco, queste le news da Napoli, torniamo sulla schermata e adesso cambiamo provincia, vediamo le news che arrivano anche da Caserta. Sequestrate le ville del Bosso Setola, nella struttura più grande, abitano ancora. La figlia e la suocera del killer dei Casalesi, sotto chiave edifici, per un valore di 450 mila euro, uno fu costruito nel giro di un'estate sull'ordine del latitante. E vediamo qui proprio il Bosso Setola. Intanto è un'auto uccisa dai genitori, la madre di nuovo incinta, la donna in carcere come il marito, a Santa Maria Vicola tragedia. Capodrise, la penitenziaria, intanto teme atti autolesionistici, strangola e uccide la madre, sorvegliato a vista in cella, la storia di Francesco Plumitallo e la tragedia di Patrizia Vella Lombardi. Un po' di politica, nessuno vuole candidarsi nel PD per le provinciali a Caserta, la commissaria incassa una sfilza di no e convoca un summit, quindi non si riesce a trovare proprio la quadra per quelle che sono le liste da presentare alle provinciali. Torniamo sulla schermata e adesso vediamo anche le notizie che arrivano dalla notizia. Il giornale appunto che dice nessuno crede più alla ricetta economica della Meloni. Bruxelles taglia un'altra volta le stime sulla crescita dell'Italia. La manovra, vedete, delle destre è l'ultimo tassello di una politica tutta sbagliata che sta facendo arretrare drammaticamente il paese. I risultati sono già evidenti con Bruxelles che ieri ha tagliato un'altra volta le stime sulla crescita dell'Italia. Poi ancora, torniamo sulla prima pagina. Sbarchi continui a Lampedusa, altri mille arrivi in un sol giorno, tutto come prima, lavoro precario, fiasco calderone con i voucher che aumentano il nero e poi Sardegna al voto, Solinas si fa il concorsone elettorale. Un po' il primo piano, guardiamolo insieme, il notte di fuoco a Nisida, i clan guidano le aggressioni, feriti quattro agenti e caos nell'IPM, troppi migranti in cella, così va in tilca il sistema penitenziario, ma ci sono sindacati che polemizzano anche contro il continuo arrivo di migranti detenuti in punto che arrivano dalle carceri del nord, che appesantiscono ulteriormente la macchina che regola la detenzione minorile. Concorso all'Asla numero uno, la regione fa fuori decine di doni, a dicembre scade la graduatoria, così sfuma il sogno di un lavoro. Abbiamo visto Napoli, Caserta, abbiamo visto la notizia, andiamo su Salerno con le cronache. Dal bilancio squilibrato ai privilegi, dalla Fondazione Menna i tecnici e assessori non lasceranno tracce e poi ancora asfaltato il corso da re, un orrore, uno schifo che ha permesso tutto questo, una riflessione. Pronto soccorso Ruggi, De Luca non risponde alla domanda e se ne va. Intanto il cantiere, l'orrore di ricoprire tutto con l'asfalto, a criticare la scelta il coordinatore cittadino del PSI, il salotto buono immaginato da Giordano non era così, Santoro un nuovo monumento alla demenzialità politica, quindi le proteste si fanno sempre più forti. Intanto Nuovo Ruggi accordo di collaborazione con l'ANAC per il nuovo bando e sul numero chiuso dice De Luca una vicenda criminale a medicina e si appella nuovamente e solidamente alla politica. Il web ci sta penalizzando con un buon decremento delle vendite, la protesta delle edicole di Salerno per i giornali che sono in crisi, Sant'Eossacchio chiediamo di poter usufruire dell'aria verde assegnata, ancora le cronache concludiamo con la misura della sicurezza e della qualità e delle cure e le esperienze a confronto all'asla di Salerno, quindi un focus tutto dedicato alla medicina. e adesso la città pronto soccorso non bastano 60 euro l'ora medici in fuga dall'emergenza al bando asla per specialisti a partita IVA rispondono in 5 ma solo uno ai requisiti ieri ennesima tragedia a Scafati l'ambulanza non arriva e un uomo viene portato allo scarlato in auto e perde la vita topio e voragine e visite al cimitero tra mille pericoli il dramma di Salerno e del suo camposanto Mercato San Severino era sparito da 20 giorni trovato morto in un terreno una tragedia quella che arriva per una persona che appunto è stata trovata senza vita danni dei cinghiali il parco ha versato già 800 mila euro e poi battipaia più Europa fermo sit-in di Europa di protesta politici che finiscono nel mirino questi cartacei continuiamo con i cartacei guardiamo insieme anche le news che riguardano lo sport andiamo a sfogliare insieme le news del Corriere dello Sport l'apertura mister bomber rilanciare Osi e Kvara l'ultima sfida di Mazzar andiamo subito sul primo piano le chiavi del Napoli Mazzar ritorna a Castel Volturno vedete dieci anni dopo primo allenamento con tanto ritmo focus difensivo Aurelio prepara il rientro a Roma la squadra è nelle mani di Walter e poi ancora di Walter il prof e l'allievo al lavoro missione rigenerazione per la scossa atletica in mentale decisivi il preparatore Pondrelli e l'aiuto del suo ex difensore Grava emergenza a sinistra il piano intanto il Napoli valuta i terzini svincolati altrimenti si punta sulla soluzione interna Mario Rui fuori da 45 giorni continuiamo a sfogliare il Corriere dello Sport ancora tanto Napoli cuore Mazzarri e la scelta migliore bentornato Walter la città accoglie il tecnico tra ricordi aspettative un bel banco di prova dice Visone siciliano restituirà l'identità iodice prenotato il cardiologo quindi tante aspettative che ruotano intorno Walter Mazzarri intanto aspetta Juventus Inter Simone 7 più Max si difende sarà un derby d'Italia sulla carta poco equilibrato il rendimento dei nirazzurri è superiore nella Juve tengono i pilastri arretrati e Milic allarme Locatelli Nicolussi pronto in regia intanto Scaloni e il Toro dopo Leo c'è lui Israele pareggia con il cuore quindi diverse società e squadre sono già qualificate quindi c'è anche una ricca panoramica su quelle che sono le programmazioni delle prossime partite continuiamo a sfogliare il Corriere dello Sport Italia-Macedonia Spalletti l'Europa su due tavoli Lucio ha scelto due nazionali per andare in Germania Bassoni si ferma oggi esami al Polpaccio e poi ancora Lucio Totti pace abbraccio e solidarietà tante curiosità quindi che arrivano anche dagli spogliatoi Fortino Olimpico per la Roma ma fuori che fatica tra le mura amiche il rendimento è da Champions con quattro successi in segare soltanto Juve e Inter hanno fatto meglio il merito è anche del supporto dei tifosi qualche altra news tra presente e futuro la Lazio Felipe papà in scadenza ma la Lazio non lo molla lo tito vuole rinnovare e il brasiliano intanto prende tempo quindi qualche novità che arriva anche dal mercato e poi ancora tante cose che riguardano le auto la nautica e tante curiosità arriviamo invece alla Lazio quanto corrono i bianco celesti 115 km a partita da Lazio alla migliore media in A fra le Big solo l'Atalanta e l'Inter sono vicine queste le news dal Corriere dello Sport e adesso le informazioni online in tempo reale quella di otto pagine Castellammare di Stabe al Consiglio di Stato annulla lo scioglimento per Camorra vediamo la news che appunto parla dello scioglimento il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro lo scioglimento del comune di Castellammare di Stabia per infiltrazioni la terza sezione del Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar del Lazio che confermava la deliberazione del Consiglio dei Ministri rinviando ad una nuova sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio andiamo per ordine torniamo sulla prima pagina guardiamo anche Benevento l'adrinazione al quarto piano di un palazzo rubati soldi e gioielli evade i domiciliari per scommettere 25 anni in carcere poi il taglio delle pensioni i medici in rivolta i ladri accesinali e ancora droga in Irpinia questo appunto la schermata del primo piano ma partiamo da Avellino guardiamo l'apertura di Avellino serata nera sul fronte dei furti ad Ariano gli imprendibili colpiscono ancora video e foto di Gianni Vigoroso su una notte di follia sul fronte dei ladri e poi il taglio alle pensioni il senologo gli annaccio il colpo di grazia alla pubblica sanità sarà fuga dei medici verso il privato la sanità è pronta a incrociare le braccia una manovra quella che rischia di mettere insieme tutte le sigle sindacali che colpisce alcune categorie pubbliche del lavoro si parte dai medici ma si arriverà anche ai docenti e ad altri professionisti che credono nel comparto del lavoro pubblico andiamo su Benevento l'adrinazione a quarto piano di uno stabile rubati soldi e gioielli ancora un furto porta bloccata appartamento a soquadro non si arresta l'ondata di furti ieri Amaro Rientro a casa nella zona del quartiere Santa Maria degli Angeli l'allarme è scattato quando i proprietari di un appartamento ai piani d'alti di un palazzo non sono riusciti ad aprire la porta che era stata inevitabilmente bloccata dall'esterno una volta aperto il portone i malcapitati hanno trovato l'abitazione a soquadro quindi ancora odioso fenomeno dei ladri dei furti a raffica Molinara distretto diffuso del commercio alto sanno in azione per lo sviluppo evade i domiciliari per scommettere 25enne in carcere e poi l'europea incontro Renzi Mastella per il centro Leonardo candidata è un'ipotesi quindi che sembra più che mai insomma certa fatture false per evadere l'iva assolta alla titolare di una ditta e da Airola una giovane stella Michelin tutto è partito da casa della nonna parla Marco Bernardo 29 anni per i suoi piatti a Forte dei Marmi andiamo a Caserta neonata neonata morta la tragedia di Aurora ossioni botto e strutto sulle ferite al dramma di Santa Maria Vico la piccina che sarebbe morta a 45 giorni di vita per le percosse subite in casa un dramma senza fine che ha scosso le coscienze di tutti andiamo su Napoli incendiano cella e picchiano agenti notte di violenza annidita abbiamo già approfondito la notizia cadono calcinacci dal ponte Chiaia via la messa in sicurezza scendiamo giù arco di portal barrischio librai in comune per chiedere aiuto e sostegno andiamo su Salerno asfaltato il corso Vittorio Emanuele la politica insorge è un oltraggio alla città salernitana Iervolino scrive ai tifosi e rilancia ci rialzeremo pesca vietata di datteri di mare blitz della guardia costiera quindi l'odioso fenomeno della pesca dei datteri di mare si cerca di trovare una soluzione soprattutto di punire i colpevoli manutenzione sulla rete ferroviaria traffico sospeso tra Salerno e Battipaia poi buone notizie per la Divina lavori conclusi riapre la statale 163 ad Amalfi una bella notizia per chi transita lungo la Divina Costiera e anche per i turisti ovviamente Campania inchiesta tamponi covid archiviata scusate limone sempre creduto nella giustizia noto europee in vasca corta tra i convocati non ci sono atleti campani Grant sarà candidato agli europee e guiderà la Lega in Campania Claudio Durigon mancano i pediatri in Campania così intasiamo gli ospedali l'allarme che arriva dal settore dell'assistenza sanitaria ai più piccoli e poi notizie dall'Italia migliori codici di sconto dove trovarli e come usarli qualche news che può essere utile energia solare il futuro è nel balcone Black Friday ecco anche come regolarsi quindi anche tante notizie che riguardano l'attualità e pratiche di buon uso anche per muoversi tra gli acquisti torniamo sul primo piano guardiamo insieme qualche altra news e Avellino ecco gli ambasciatori della gentilezza c'è stata la giornata mondiale della gentilezza tanti comuni si sono tinti di viola tanti altri hanno presentato quelli che sono gli ambasciatori della gentilezza che sono i più giovani che praticano gentilezza con consapevolezza e guardiamo proprio quelli di Avellino che sono andati a trovare il sindaco e hanno letto poesie e hanno cantato ricordando a tutti l'importanza del vivere comunitario con gentilezza proprio per creare un mondo migliore e con questa notizia si chiude l'edicola di 8 Channel vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione alle 14 in punto con il TG News regionale e alle 14 e 30 circa con il TG Sport grazie ad Aldo Finizia in regia e buon proseguimento su 8 Channel TV grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti